Oggi nel Vangelo Pietro domanda a Gesù, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. È come dire, implicitamente gli domanda, e che vantaggio ne abbiamo? E Gesù gli risponde, chi ha lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figlio o campi per causa mia e del Vangelo riceverà cento volte tanto. Pensate, dobbiamo quando ci mettiamo in rapporto con il Signore non dire mai chissà che vantaggio ne avrò, perché dobbiamo essere sicuri che il vantaggio è non solo decuplicato ma centuplicato. Poi notate Gesù aggiunge anche insieme con persecuzioni. Anche questo fa parte del gioco. E possiamo mettere insieme questo cento volte tanto e le persecuzioni? risposta sì, perché anche le persecuzioni, le sofferenze, le contrarietà, noi le possiamo vivere come un modo per rinnovare la fiducia nel nostro Signore e dirgli, Signore mi hai dato anche questa tribolazione, ma io so che per il mio bene, ma ti chiedo dammi anche tanto come hai detto in fratelli, sorelle, case, figli e campi eccetera. Buona giornata!